Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Dichiaro ufficialmente chiuso il corso di questo collegio 2001. Non sarà mai chiuso. Potete salire, indossare i vostri abiti e tornare alla vostra vita. Siate felici, buona vita. I capelli, uno, due, tre. Non mi ricordo la password. Non mi ricordo la password, anzi non va. Via sto schifo e torno nel mio iphone. Ma è di? Oh yeah! Cecilia, il Maccara, è urgente. Tornare con questi abiti fa strano perché ero abituato ad avere la divisa. Spero di uscire da qua avendo imparato una gran lezione di vita. La felicità del tornare al mondo reale si scontra con il dover salutare i compagni di questa avventura. La mia piccola cantante che diventerà una cantante grandissima. Mi mancherà tantissimo stare con tutti i miei compagni H24 sempre insieme. Sono in grado, sono in grado, si becchiamo fuori. Non è facile lasciare le persone con cui si è condiviso così tanto. Ma bisogna far tesoro di un'esperienza così potente. Mamma mia, la mia croce è la mia delizia. E portarsi tutto nel cuore. Mi porto via un'altra famiglia di amici, di Auro il meglio, altre spalle su cui piangere e altre persone che comunque mi hanno migliorato la vita. Ciao Colleggio 2001, grazie di tutto. Arrivederci! Fatemi bravi! Se vogliamo ci vediamo al 2002. Sì! Grazie a tutti!